Buongiorno, sono il sindaco di un comune che non ha consiglio comunale. Io sono il sindaco, non ho una maggioranza. Io sono il sindaco, non ho una minoranza. Io sono il sindaco. E nessuno può dire il contrario. Come vedete sto cambiando tutto, passo passo. Passo passo e non passo. Qualcuno dice che non faccio niente. Qualcuno dice che faccio tutto. Ma sono solo. Consigliere di maggioranza, che sono minoranza. Consigliere di minoranza, che sono maggioranza. Io apro e chiudo quando voglio e quello che voglio. Dicono che sono un bugiardo. I bugiardi sono loro. Dicono che non so scrivere un atto deliberativo. Ma sono loro che non sanno leggere. Comunque non mi voglio difendere. Mi difende il popolo. Il popolo è tutto con me. Vi dico soltanto che tante di quelle cose che vi avevo promesso, le ho mantenute. E voi lo sapete. Non le elengo, non le voglio elencare. Perché voi le vedete tutte le cose che sto facendo. E ora, un altro grande sforzo del vostro sitaco è quasi compiuto. Dopo tante insistenze, anche in alto, sono stato assicurato che avete finito di patire questo grandissimo caldo che vi ha sfiancati durante questo mese di agosto. Da questa settimana, lentamente, ho deciso che la temperatura diventerà sempre più umida e sempre più sopportabile. Perché i miei cittadini non devono soffrire. Ho saputo a chi mi dovevo rivolgere. Ho trovato le porte giuste. Ho bussato. Mi è stato aperto. Quindi ora vi auguro un buon proseguimento di agosto, con un clima più umide. E non mi dovete ringraziare, che vi faccio venire un po' di fresco. Non mi dovete ringraziare. Sicuro troveremo gli oppositori, che non so se sono di maggioranza o di minoranza, che diranno, così non ha fatto venire fritto, ma come facciamo? Ma voi non state a sentire nessuno. Seguitemi, passo dopo passo. Ciao.